La Juve che è stata entrata senza vincere, avrebbe fatto un po' scalpore, e quanto è stato bello tornare ad assaturare in questi momenti. È bellissimo essere qui questa sera, è bellissimo vincere la Coppa Italia, è bellissimo tornare qui a Roma. È stata una partita per la Juve, e sono alla Juve che non hanno ancora mai vinto. Uno di questi era un'altra partita per la Juve, e se fosse possibile a partire dall'anno prossimo, questa è stata una buona base di partenza per rivedere dagli questi livelli del passato. Vincere aiuta a vincere. Prendiamo questa sera con un bel momento per la Juventus, è bella per la Coppa Italia, la quindicesima, un traguardo molto importante, e soprattutto guardiamo al futuro con tanto ottimismo e speranza perché la Juve ha dei giovani straordinari, come l'hanno dimostrato questa sera.